E poi a un certo punto, eccola, è un'idea entusiasta, cominci a scrivere. Cominci a scrivere finché succede qualche cosa, un inciampo comincia ad avere dei dubbi e se non fosse l'idea giusta e se stessi sbagliando strada, e così smetti di scrivere. Alle volte va in questo modo, altre volte i dubbi arrivano ancora prima di aver iniziato a scrivere, altre ancora di idee, ce ne sono talmente tante che non sai bene quale scegliere. Ma come si fa a capire che un'idea vale la pena, vale il tempo, l'energia e quindi è una strada che dovresti percorrere? Beh, ti do qualche consiglio. Per prima cosa, testa la strada prima di percorrerla. Un'idea non te la devi soltanto tenere in testa, questa è una fase però comunque molto preziosa. Comincia a buttarla giù sulla carta, comincia ad scomporla, riassemblarla, stressala, mettila un po' alla prova, semplificala, scalettala, allargalala, insomma, cerca di metterla a nudo. Nel momento in cui la metti sulla carta già la osservi da un punto di vista differente. E puoi già in questa fase vedere se prendi un respiro maggiore, se si struttura, se ti convince davvero, o se persiste, come dice l'amata Icemeet. Perché? Perché se in questa fase di palestra, diciamo così, la tua idea continua a convincerti, beh, ci sono delle buone probabilità che valga la pena, che valga il tuo tempo. Quanto conosci ciò di cui vorrai parlare? Perché alle volte ci sono dei temi, degli argomenti che ci appassionano, che ci affascinano, ma di cui sappiamo davvero poco. Quindi l'energia non è tanto la bontà dell'idea, ma la nostra curiosità verso questo argomento, che va benissimo, ma è ancora troppo presto per decidere se questa idea vale la pena. Sei in una fase di semina, sei in una fase di indagine. E quindi stai in questa fase, cerca di prendere più informazioni possibili, cerca di capire se veramente ti interessa quello che stai guardando, cerca di diventare più competente, perché se parli di qualcosa che non conosci minimamente è molto difficile. Quindi mi raccomando, fai fatti le ossa. Una terza domanda molto importante è come intendi trattare i temi, gli argomenti che c'entrano con la tua idea. Perché alle volte non abbiamo un punto di vista particolarmente originale su una questione. E invece sarebbe interessante e importante permettere ai lettori di vedere le cose che credono di conoscere da un punto di vista un po' diverso. Spesso la fatica più grande consiste nel rompere uno stereotipo, oppure utilizzarlo in maniera originale o differente. Quindi domandati quanta familiarità hai con ciò che conosci, quindi quanta possibilità hai di dire qualcosa di non banale su questo argomento. C'è poi una questione molto delicata, cioè hai il diritto di parlare di ciò che ha a che fare con la tua idea. Ci sono dei temi, ci sono degli argomenti che magari vanno di moda, diciamo così, o sembrano essere toccati da tante persone perché c'è curiosità a riguardo. Ma tu hai il diritto di poterli affrontare o perché li conosci davvero molto bene e quindi hai imparato nel tempo a parlare di questi argomenti, sei titolato, sei titolata, oppure perché hai dalla tua tanta esperienza personale, quindi è qualcosa che hai vissuto sulla tua pelle. Ci sono argomenti delicati che riguardano alcune libertà, alcuni diritti, alcune condizioni, alcune situazioni che richiedono assolutamente o la competenza o l'esperienza personale. Perché? Perché ci sono persone che ne sanno molto di più di te. E quindi non ha senso occupare lo spazio che potrebbe essere occupato molto meglio da qualcun altro. È davvero una questione di rispetto. Quindi adesso hai qualche idea, qualche strumento in più per sapere se la tua idea vale il tempo di esplorarla, di conoscerla meglio e magari anche il tempo per essere scritta e realizzata. Quindi quello di cui hai bisogno non sono soltanto le idee, ma soprattutto una palestra per allenarle. Devi diventare bravo, brava a testare la forza, l'energia delle tue idee. Devi quindi allenarti a fare tanti, tanti, tanti tentativi e ritenere questa fase di lavoro assolutamente normale, non qualcosa che ti toglie energia perché, oh mio Dio, ho sbagliato strada, ma qualcosa che ti permette di esplorare tante strade e tante possibilità diverse. E come ha detto un'autrice a me molto cara, ogni cosa comincia con un tentativo.